ciao a tutti ragazzi da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti racing time post gp del messico è finita esattamente come mi aspettavo avevo proprio fatto questo pronostico secondo me realisticamente avrebbero chiuso così ovvero in prima posizione per stappen secondo emilton e terzo leclerc che a dire il vero ragazzi a mio avviso i due piloti ferrari hanno fatto un mezzo miracolo certo ci fossero stati in gara perez e un norris che ovviamente poi è stato il protagonista di una rimonte incredibile però non avesse perso tutte quelle posizioni dopo l'incidente di magnusen poteva finire anche più avanti poteva anche togliere il podio alla ferrari di leclerc quindi meno male che ha sbagliato comunque al di là di questo ragazzi analizziamo una gara che a dire il vero è stata un po noiosa in tutto il suo svolgimento perché le vetture al di là di quelle che stavano nelle retrovie o chi era in rimonta tipo norris non sono state mai in bagarre solo emilton ci ha fatto godere un pochino assieme a norris di qualche sorpasso particolare però non sono state mai in bagarre perché avevano un problema cioè quello di surriscaldare il motore e i freni quindi l'elastico lo spazio che si lasciavano era da formula noia ecco per capirci da formula noia e poi c'è stato tanta gestione delle gomme tantissima gestione delle gomme per tutta la gara ma partiamo da una cosa a caso la partenza perché la partenza come era da come dire da pronostico ha visto chi partiva in pole position un po più svantaggiato chi è stato chi ha preso una scia veramente assurda è stato perez che poi è andato tutto all'esterno però ha fatto una chiusura che non è delle migliori cioè mi ha ricordato tanto emilton con russell in catarre ha chiuso come se leclerc non ci fosse ha sfondato la sua pancia laterale ha rotto la sua sospensione è ricaduto malamente a terra si è dovuto ritirare errore furibondo del messicano ha sbagliato proprio tutto quello che poteva sbagliare ci stava la bella partenza ma doveva stare un po più in largo doveva tenere conto che all'interno c'erano due vetture ha chiuso come se non ci fosse nessuno e non è una giustificazione dire chi era in mezzo doveva alzare il piede prima cosa doveva fare chi era in mezzo ragazzi così e sparire o frenare a tappo e farsi tamponare da quelli dietro le fasi della partenza sono molto delicate molto concitate piuttosto direi che ancora una volta in ferrari in partenza qualcosa non ha funzionato e questa storia si ripete da un po di gran premi quindi o in red bull hanno trovato qualcosina in più e secondo me è così o in ferrari hanno qualche problemino con le partenze però solitamente se tu parti bene poi non monti qualcosa in vettura che ti faccia partire peggio quindi più realisticamente parlando in red bull hanno trovato qualcosina nella gestione delle partenze ormai ragazzi è tutto elettronico che ti aiuta a partire meglio degli altri poi la cosa che mi è dispiaciuta di più del ritiro di perez è vedere questo bambino e così come lui tantissimi negli spalti affranto e avvilito per il ritiro del proprio idolo questo mi è veramente dispiaciuto tanto 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 alla fine ha vinto per stappen però ce l'avete fatto caso per la prima volta abbiamo visto cioè non è proprio la prima volta da un po da qualche gara a questa parte succede un po più spesso però oggi è stata un po una cosa in antitesi con ciò che abbiamo visto fino fino ad adesso perché facciamo un passo indietro torniamo ad austin ad austin ragazzi la strategia delle due soste era più veloce e l'azzardo era farne una sola e poi ha sbagliato solo la ferrari con leclerc e anche la mercedes un po con emilton richiamandolo troppo tardi invece qui ragazzi la strategia più veloce sulla carta era quella una sosta sola e allora che gioco ha fatto la red bull la red bull ha giocato sulla velocità della propria vettura ma non sulla gestione degli pneumatici cioè in red bull già dal venerdì se non dal sabato sapevano che dovevano impostare la gara su un ritmo elevato tant'è che si sono conservati una gialla e due arde questa cosa ti fa riflettere perché volete fare due soste perché non conservare una hard e due gialle probabilmente perché avevano un degrado pneumatici abbastanza elevato rispetto a ciò a cui non alla concorrenza ragazzi ma rispetto a ciò a cui sono abituati rispetto a ciò a cui sono abituati e quindi cosa ha fatto Verstappen è stato il primo a rientrare e poi da lì ha messo sotto scacco gli avversari tirando senza risparmiarsi cioè ha tirato a manetta per tantissimi giri ha fatto pochissima gestione se non dopo la ripartenza dovuta alla bandiera rossa provocata da Magnussen e anche questa è una piccola novità una piccola info in più che ci arriva da Singapore in poi perché di solito loro ragazzi cambiavano quando il gran premio stava finendo giusto perché dovevano farlo perché obbligati dal regolamento magari non era proprio così ma più o meno rendo l'idea invece adesso no oggi hanno sfruttato proprio le capacità velocistiche di una vettura che ve l'ho detto in tutte le lingue del mondo rimane la più veloce anche se non più con quel grande vantaggio e non si sono fidati del poco degrado che poteva generare la RB19 hanno cambiato e fatto una sosta in più degli altri per lo meno questo era ciò che si doveva fare poi è arrivato l'improvisto ovvero Magnussen che qui vi voglio far notare ha staccato le mani dal volante prima dell'impatto l'impatto già è avvenuto in realtà ma comunque le mani del volante nel pilota non ci sono che cosa del pilota sul volante non ci sono che cosa è successo stacco qui il tablet perché se no mi distrago di continuo che cosa è successo a Magnussen si è rotto il tirante del braccio della sospensione posteriore sinistra cioè si è rotto un braccio della sospensione posteriore sinistra la ruota in una curva a destra si è chiusa di conseguenza ha fatto fare questo lavoro alla monoposto che è andata a impattare contro il muro il pilota l'ha sentito immediatamente e prima dell'impatto ha messo le mani così a croce sulle cinture per evitare che andassero da tutte le parti per evitare un problema alla Ricciardo per capirci da lì si è detto Verstappen fortunato perché Leclerc aveva appena fatto il cambio gomme ma in realtà poi la bandiera rossa ha zerato tutto c'è stata una nuova ripartenza e lì non capisco non la strategia della mercedes perché ragazzi in mercedes hanno tra l'altro questo è un sorpasso bellissimo hanno fatto benissimo a montare le gialle hanno montato le gialle quello che vedete che sta anche guardando Lewis Hamilton non è graining è gomma raccolta perché guardate quanta ce n'è qui cioè e questa è tutta gomma raccolta magari aveva un po di graining ma non è quella che vediamo noi in questa foto perché questi sono i malborn che tu raccogli con la gomma calda nel giro di rientro che fai molto più piano e spesso anche fuori traiettoria durante la gara dagli on board la gomma anteriore era molto più pulita però quello che non capisco è come questo pilota nell'ultimo giro faccia 1 21 e 3 se non sbaglio e 2 una cosa del genere quando per tutti i giri ha girato non due decimi tre decimi più alto ma un secondo girava sul passo dell'1 e 22 basso ma sempre 1 e 22 quindi un secondo più alto cioè a un certo punto tu te lo aspetti che te lo dicano di Verstappen Verstappen ultimo giro abbassa un secondo e fa il giro più veloce ok ma non te lo aspetti da Lewis Hamilton non te lo aspetti da uno che stai inseguendo quindi questo significa solo una cosa che Hamilton neanche per un momento ha corso con la testa alla vittoria con la testa pensando alla Red Bull di Max Verstappen è un peccato perché probabilmente avremmo rivisto anziché un finale noiosissimo un qualcosa in stile Austin dove onestamente quel finale con lui che rimontava è stato divertentissimo invece no cioè però il giro più veloce ottenuto all'ultimo giro con un secondo di margine ti fa capire che questa formula non funziona questa formula consumo non funziona allora più bello vedere delle gare sprint dove i piloti tirano fuori tutto quello che devono tirare questo ragazzi ma aveva un secondo di margine un secondo di margine sul proprio passo ragazzi ha finito se non sbaglio 13 secondi da Verstappen poteva finire molto molto più attaccato continuo a non apprezzare questa formula 1 dove il pilota anziché dare tutto una volta gestivano i piloti ma lo facevano per l'affidabilità della vettura adesso lo fanno per le gomme ma di gomma ancora Lewis Hamilton ne aveva tanta magari non è sufficiente ad andare a prendere Verstappen che ripeto continua a guidare una monoposto fantastica fantastica però ragazzi un secondo è pur sempre un secondo andiamo avanti perché abbiamo parlato della strategia d'attacco della red bull e mi fa piacere vedere una cosa del genere perché significa che sì rimangono i più forti vincono ma non stanno più giocando al gatto col topo con gli avversari questo è totalmente cambiato e ci fa ben sperare per l'anno 21 vero è che c'è chi dice che hanno interrotto lo sviluppo stanno solo pensando alla stagione 2024 però ragazzi anche gli altri che cosa pensate che facciano si girino i pollici tutti hanno interrotto lo sviluppo più o meno allo stesso gran premio ce ne può essere uno in più due in più ma sono tutti team concentrati sulla vettura dell'anno prossimo se poi vogliamo dirla tutta e andiamo a guardare chi è arrivato in settima posizione e allora diciamo che le idee red bull portate in alfa tauri funzionano veramente veramente bene anche perché in quella posizione lì appunti subito dietro ricciardo poteva arrivarci yuki tsunoda che ha fatto lo stesso errore alla prima curva che ha fatto perez con leclero piuttosto emilton con russell in catarro ovvero ha chiuso l'avversario che era a piastri in quel momento senza pensare che ci stava un altro all'interno frenando all'esterno di curva 1 e andando a chiudere sull'avversario ancora una volta yuki tsunoda con tutto il bene che gli voglio dimostra un pelino di immaturità posso capire perez che tenta la staccata della vita alla prima curva era veramente nella possibilità di svoltare il primo giro in prima o in seconda posizione però ragazzi lui lo capisco ma yuki tsunoda no questa è la fretta di andare a prendere ricciardo che stava una posizione avanti a lui se avesse completato il sorpasso su piastri poi andiamo ancora avanti ferrari cosa chiedere di più alla ferrari ragazzi secondo me con la siamo fermi 23 o l'altro modo per chiamarla qual era senza vabbè comunque con questa cosa qui che di bello ha solo il colore ma poi è un progetto totalmente fallimentare ebbene di più non si poteva chiedere non conosco la temperatura dell'asfalto poi magari domani ve la dirò però in ogni caso i ragazzi hanno fatto quello che potevano guardate qui leclerc come si è difeso da emilton dopo la ripartenza della bandiera rossa qui emilton è andato praticamente con l'anteriore destra sull'erba però qui non è ancora in fase di frenata la frenata arriverà poco più avanti e qui leclerc si è spostato un po per dar modo al suo avversario di frenare con tutte e quattro le ruote sull'asfalto quindi bravi entrambi ma molto molto coraggioso emilton solo che secondo me devono capire che adesso la vittoria da qui a fine stagione ce l'hanno alla loro portata parlo di mercedes quindi crederci un po di più sacrificare un pochino qualcosa sul passo gara per partire un po più avanti diventa fondamentale da qui a fine stagione non avranno tanti colpi las vegas non esiste forse l'ultimo che possono giocarsi è il gran premio della prossima settimana quello del brasile li potrebbero dire un qualcosina in più ma la favorita rimane sempre la red bull e di questo non ho dubbi per ogni gran premio da qui a fine stagione perché hanno sviluppato il concetto di vettura migliore ora ovviamente oggi chi poteva dire la propria era norris che qui ha fatto un sorpasso a russell capolavoro cioè l'ha affiancato dove lui non si aspettava che si potesse passare qui è stato veramente bravo però norris nel finale con le gialle che non ne volevano sapere di consumarsi aveva un ritmo indiavolato norris poteva giocarsi la vittoria e non c'è riuscito ancora una volta perché non è pronto l'errore in cui uno è clamoroso quando guidi una vettura di questo tipo questa era una gara che lui poteva vincere o quantomeno giocarsi ancora di più rispetto ad austin contro max westappen ma ancora una volta ci sono segni di immaturità forse dopo la prima vittoria riuscirà a sbloccarsi ma prima la deve raggiungere questa benedetta prima vittoria poi a proposito di mcclaren vi faccio vedere una foto ancora una volta non solo piastri qui ma nessuno si difende sainz quando è arrivato verstappen dietro gli ha aperto la porta cioè voglio dire ma non è una questione di carattere semplicemente la formula delle gare sbagliata sanno di non essere in questo caso in gara con quello che li sta superando e noi vediamo questi sorpassi così sterili perché non funziona perché ognuno è sulla propria strategia corrono a volte contro ci avete presente i simulatori quando tu metti in modalità hot lap e ci sei tu stesso che ti sorpassi che la vettura fantasma del giro prima e tu la devi raggiungere ecco corrono contro la la strategia che loro hanno ideato e cercano di fare proprio esattamente quello di finire assieme alla vettura fantasma così per noi che guardiamo che paghiamo l'abbonamento in tv è veramente brutto poi per me l'eroe del giorno non è norris norris è da bocciare in questo gran premio norris non va non ci siamo quando hai una vettura quasi uguale a quella che domina devi giocarti la vittoria quindi per me il pilota del giorno ragazzi è daniel ricciardo cioè sono contentissimo ma proprio contentissimo per lui perché ha fatto veramente un gran premio strepitoso e dimostra quanto è buona la vettura con i nuovi sviluppi che alfa tauri per conto red bull ha portato e che vedremo probabilmente tante cose che stanno sotto nella vettura del prossimo anno voi dite ma ce n'è bisogno quelli dominano sì però loro hanno provato nella zona della chia nella parte posteriore un qualcosa che ricorda il loro effetto a gradini che va a decomprimere un po il fondo da metà in poi che abbiamo visto a monte carlo ricordate quel video commentato con la vettura di perez che ci ha aperto un mondo ebbene stanno sperimentando una cosa del genere però più rivolta verso la parte interna del canale venturi verso la chia comunque non appena ci sarà modo di poterla vedere ve la mostrerò bene ragazzi per questo video è tutto spero vi sia piaciuto la gara credo non vi sia piaciuta tranne a quello che scrive il dentista di maranello bla 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 se così lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social attivate la campanellina iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto noi ci vediamo domani per il solito appuntamento se dio vuole di mezza giornata per il resto non so più che cosa dirvi perché veramente c'erano momenti che ho rischiato l'abbiocco vi saluto e non perdiamo la passione per il motosport sperando che in futuro si possa vedere uno spettacolo migliore ciao